L'Aquila Calcio chiede ai suoi tifosi di fare quadrato e stringersi attorno alla squadra nelle prossime gare casalinghe. Per questo la società ha dato il via alla campagna denominata Se vuoi lottare con noi fa il buono, grazie alla quale sarà possibile acquistare un carnet per i match contro Prato e Rimini a prezzi scontati. Il buono sarà acquistabile solo nella sede del sudalizio, nel complesso Gran Panorama e sarà cedibile anche ad un'altra persona possa assistere solo ad una delle due partite al fattori. Una possibilità di coinvolgere ulteriormente la tifuseria in seguito a due belle prestazioni recenti della squadra, sia con il derby col termo che con la maceratense che hanno sicuramente ridato fiducia e anche un po' entusiasmo. La società non vuole perdere e dissipare questo entusiasmo, anzi lo vuole alimentare e da qui l'iniziativa Se vuoi lottare con noi fa il buono, giocando anche un pochino sulle parole ma in sostanza dando l'opportunità a prezzi scontati di acquisire questi due buoni. Un modo per far venire più gente allo studio perché c'è sempre più bisogno del sostegno in questo momento? Sì, un segnale chiaro da parte della società che non guarda semplicemente al puro incasso economico ma soprattutto al sostegno e alla presenza degli sportivi aquilani che poi è quel target di persone che hanno piacere a seguire una squadra però ultimamente si erano un pochino allontanati per mille vicende. Noi vogliamo chiaramente stringerci intorno ai ragazzi che hanno bisogno, stanno lavorando seriamente, stanno facendo grandi cose, peraltro questo buono è anche scedibile quindi se un utente vuole comprare il buono perché sarà presente alla partita di Prato ma non saprà se può essere presente alla partita con il Rimini può comunque cederlo ad altra persona. Cerchiamo quindi di dare il massimo servizio per agevolare l'affluenza allo stadio.